Traffico elevato, limiti non rispettati e soluzioni che mancano. I residenti di Villa San Martino lamentano da tempo i disagi creati dalla circolazione stradale in alcune zone del quartiere. Nello specifico a intervenire è Danilo Ferri, residente di via Ettore Viterbo, che già da diverso tempo segnala le problematiche della strada. La via, a senso unico, raccoglie un traffico in aumento ormai da diversi anni, composto prevalentemente da residenti e lavoratori che la attraversano per recarsi in direzione del quartiere Tombaccia. Una sovrabbondanza di mezzi che, oltre a recare disturbo specialmente negli orari serali, rappresenta talvolta anche un pericolo. Il limite dei 30 km orari raramente viene rispettato e tanti sono i mezzi che si immettono nella via contromano. Velocità e irregolarità del senso di marcia rappresentano un pericolo anche per i più piccoli, che spesso si trovano a percorrere la strada in bicicletta. Tutto il traffico che porta a Rione della Tombaccia e quei quartieri alti là, è l'unica strada, a senso unico, che va verso quei quartieri. Quindi le zone industriali di Villa Fastigi, le zone industriali di Talacchio, quelli degli interquartieri di là, via Toscana, passano tutti lì. Qui non si campa più. Qui in estate con le finestre aperte noi non ascoltiamo più la tv. dobbiamo ottenere, non so che, livello di volume. È una roba incredibile. Gente che poi cammina come pazzi, no? Specialmente le moto. Qui i bambini vanno a scuola da solo, in compagnia, per mano. E poi alla sera giocano in mezzo alla strada con le biciclette. E devo dire che sono più controllabili loro perché si controllano l'un per l'altro, mentre le macchine e moto continuano a transitare come vogliono. I due segnali dove dicono senso di vieto d'accesso, uno, sono talmente orizzontali che chi viene dalla via Ponchielli non si vede. E così altrettanto quelli che vengono dalla via Mercadante. Quindi ho chiesto anche al comune, vogliamo metterli più in fuori e farli vedere meglio, questi qua che riescono a vederli e non vengono più contro mano? L'appello esposto dal signor Ferri risulta però inascoltato da anni. Per il residente la soluzione più efficace per arginare il problema sarebbe quella di aprire via Togliatti su via Paganini. Misura utile a ridurre la condensa di traffico che si va a creare su via Viterbo. Soluzione che migliorerebbe anche la circolazione degli autobus che transitano nella strada e che quotidianamente si trovano in difficoltà per effettuare manovre. Gli autobus, lo scompenso ce l'hanno loro nel girare in cima alla nostra via quando trovano macchine parcheggiate che sono al barro o dentro qualcuno qua e loro non riescono a girare. Una volta aperta la via Togliatti si potrebbe far finire il passaggio anche degli autobus sulla nostra via e anche loro girerebbero in via Paganini dove c'è la Dibali sul ponte e poi girerebbero a destra nell'apertura che io da tanto tempo chiedo. Sempre nel quartiere di Villa San Martino sono tanti residenti che segnalano un'altra problematica relativa alla totale assenza di illuminazione in via Paganini. Un corretto impianto potrebbe contribuire non solo ad una maggiore sicurezza stradale ma anche ad evitare che nella tarda serata possano avere luogo episodi spiacevoli tra cui possibili tentativi di furto. Grazie a tutti.